La Delegazione Europea e Regno Unito ha celebrato a Londra la Festa dell'Europa con un concerto presso il St. John Smith Square. A suonare noti brani di musica classica è stata la The Young Musician Symphony Orchestra, composta da giovani musicisti alle soglie della loro carriera. All'evento erano presenti illustri ospiti, come parlamentari, lords, l'ambasciatore dell'Unione Europea Pedro Serrano o come la principessa Maria Marigliano Caracciolo. L'evento è stato un'occasione per ricordare la dichiarazione di Robert Schumann, grazie alla quale nacque nel 1950 l'Unione Europea, ma è stato anche un modo per sottolineare la forte unione che esiste tuttora tra Regno Unito e Unione Europea nonostante la Brexit. Grazie.